Ciao a tutti quanti ragazzi, buongiorno e soprattutto bentornati sul nostro canale. Io come sempre sono Federica, qui di fianco a me c'è Ghella, quindi Ghella saluta. Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Oggi affronteremo un tema molto molto particolare ma anche molto semplice, ovvero vi andremo a presentare una serie di estensioni, in questo caso e non solo, utili per guardare insieme a un vostro amico, alla vostra fidanzata, il vostro fidanzato, qualsiasi cosa quella persona possa costituire per voi, il vostro programma di streaming preferito, una serie in particolare, un film e quant'altro. Per via del covid siamo abituati a fare questo ma spesso e volentieri purtroppo non possiamo effettivamente stare con i nostri amici in una sola casa sotto lo stesso tetto, quindi queste possono essere delle soluzioni molto valide. Esatto perché magari soprattutto oggigiorno si stanno creando sempre di più amicizie e soprattutto amori virtuali, non che non siano più autentici di quelli reali, però spesse volte è così, infatti molto più spesso sentiamo parlare proprio di relazioni a distanza e ci sarà anche un motivo. Ovviamente tutte le cose che vi facciamo vedere oggi sono perfettamente legali e poi vi spiegheremo passo passo per quale motivo insomma può sorgere il dubbio, ma non vi preoccupate, però direi che prima di iniziare dobbiamo dare spazio allo sponsor. Un minutino circa di sponsor e ci vediamo dopo. Se sei alla ricerca di una licenza per Windows 10 Pro che potrà poi essere convertita totalmente in maniera gratuita a Windows 11, oppure stai cercando una licenza per Office, così per i vostri lavori e spendere veramente poco, Hukis fa sicuramente al caso vostro. Qualora doveste poi utilizzare il mio codice sconto GH20 durante la fase di acquisto risparmierete ben il 20% su tutti gli acquisti. Il sito è molto molto semplice da utilizzare, una volta che vi sarete iscritti e una volta che avrete fatto l'acquisto troverete le chiavi all'interno della vostra dashboard. Andate a copiare il codice di riferimento, ad esempio quello di Windows 10, e poi procederete andando nel pannello di controllo, seguendo la procedura di attivazione di Windows incollate il codice che vi viene assegnato e il gioco è fatto. Lo può fare veramente chiunque. Vi ricordo nuovamente il codice sconto GH20 per il 20% di sconto, tutti i link li trovate qui sotto in descrizione. Le applicazioni, o meglio le estensioni che vi andremo a presentare in questo video sono 5 per l'esattezza. Partiamo con l'applicazione, ossia la più famosa Discord, quindi quella che utilizzate praticamente tutti e che conosciamo praticamente tutti su questo pianeta. Le estensioni sono Ciner, Watch Together, Watch Netflix Together e Teleparty. Alcuni di questi vi sembreranno molto simili, ma soprattutto un paio vi andremo a spiegare che, per quanto possano dare l'illusione di poter essere utilizzati in un certo modo, in realtà sono la stessa tiritera per l'ennesima volta. Sebbene simili, la differenza sta nel fatto che alcuni di questi sono un pochino più leggeri e girano su qualsiasi dispositivo, altri invece sono un pochino più pesanti, però tutto sommato funzionano allo stesso modo. Una di queste soluzioni, ovvero Discord, che vedremo tra pochissimo, è forse quella un pochino più nell'area grigia, ovvero andremo a utilizzare un solo account per poterlo vedere in più persone e questa cosa non è proprio nelle regole dei vari servizi streaming. Noi ve la raccontiamo lo stesso, sta a voi utilizzando in modo migliore. Però ovviamente noterete, al contrario, che le altre estensioni avranno proprio dei limiti a riguardo. Il contro ovviamente di Discord, però, qual è? Visto che non può essere tutto perfetto, permette di fare una cosa sì, ma non al massimo dalla qualità, ma questo ve lo facciamo vedere a brevissimo. Ed eccoci qui con il nostro caro amato Discord, software che ovviamente dobbiamo avere tutti, in questo caso, per questa soluzione, quindi sia voi che i vostri amici. Però, come sapete, è completamente gratuito, potete creare il vostro server pensato proprio solo per farvi le vostre serate in compagnia, quindi è tutto molto molto semplice e soprattutto economico. Insomma, non pagate niente, quindi a meno di aumentare la qualità dello streaming con la soluzione Nitro, ma vediamo dopo giusto di cosa si tratta. Avrete sentito sicuramente molte persone dire che Netflix non si riesce a trasmettere tramite Discord perché crea schermata nera. In realtà sì, ma solo se noi andiamo a fare una condivisione della finestra di Chrome o Edge o qualsiasi altra cosa, perché va in conflitto con il discorso della scheda grafica. Però, ora vi faccio vedere una soluzione che va bene per tutti, senza alcun problema. Una volta che abbiamo creato quindi il nostro server, abbiamo condiviso tutto con i nostri amici, dobbiamo andare semplicemente nelle nostre impostazioni. Qui in basso a sinistra. Clicchiamo e scorriamo tutto il menu fino a quando arriviamo a giochi registrati. Clicchiamo e qui vediamo i giochi che già automaticamente Discord riconosce, ovvero i giochi che abbiamo giocato nell'ultimo periodo. Qui non troveremo Chrome, Edge, Brave o qualsiasi altro browser che noi andiamo a utilizzare, dobbiamo aggiungerlo. Per fare questo andiamo qui dove c'è scritto non vedi il tuo gioco, aggiungilo. Ora ho aperto Netflix, rifaccio aggiungilo e come vedete Google Chrome appare. Selezioniamolo e facciamo aggiungi gioco. Ora è disponibile, come vedete lo registra qui sopra, andiamo tranquillamente a fare ESC, entriamo in una qualsiasi chat vocale che abbiamo creato dai nostri amici e a questo punto come vedete appare subito qui Google Chrome con il tasto trasmetti Google Chrome. Clicchiamo e tutto partirà comodamente. Come vedete noi abbiamo solo un problema per Discord, ovvero che possiamo avere una risoluzione massima di 720p a 30 fps, che va benissimo ovviamente per guardare insieme agli amici un film, ma se volete avere una qualità superiore dovrete attivare Nitro. Nitro però purtroppo è a pagamento. E come vedete non è nemmeno tanto economico, parliamo di circa 10 euro al mese. Quindi se le serate con gli amici le fate spessissimo, volete avere maggior qualità, dividendo questa cifra ovviamente ce la potete fare, però non è così fondamentale. Torniamo alla nostra schermata e a questo punto possiamo fare semplicemente Go Live. Noi avremo il nostro streaming che gli altri amici una volta connessi alla chat pubblica potranno vedere, ma saremo anche noi stessi visibili, quindi potremo tranquillamente parlare col nostro microfono e farci vedere con la nostra webcam. Come potete vedere il vostro video streaming è qui, adesso lo avrò oscurato così per evitare copyright e il gioco è fatto. In un attimo potete vedere insieme ai vostri amici il vostro film, la vostra serie, però come detto prima e voglio ricordarvelo, questo è un metodo un po' grigio, ovvero soltanto uno di voi dovrà avere Netflix e potrà condividere quindi il browser con chiunque, quindi oltre a Netflix potrete utilizzare YouTube, Prime Video, qualsiasi sito voi vogliate, però ricordatevi che sarebbe contro le regole di questi siti, questo è importante per noi dirvelo, ovviamente fate la vostra scelta. Comunque questo è un sistema per condividere il browser con chiunque, anche se dovete studiare, se dovete condividere altre informazioni via internet, insomma è la soluzione migliore per evitare problemi, schermate nere e quant'altro. Passiamo ora alla prima estensione di quelle che vi faremo vedere, questa si chiama Teleparty, per me è la migliore, però potrebbe essere che magari non funzioni il servizio, abbiate bisogno di altre piattaforme, quindi vi mostrerò anche tutte le altre. Andiamo semplicemente a fare aggiungi dalle varie estensioni di Chrome, vi ricordo che tutti i link comunque li trovate qui sotto in descrizione per far sì che voi andiate sul sito senza dover cercare nulla. Facciamo aggiungi. Aggiungiamo l'estensione e in pochi secondi sarà installata. Questa è la schermata che vi troverete, quindi procedete tranquillamente, seguite ogni step. È in inglese ma lo vedete è semplicissimo, basta fare next, poi andare ad accettare e ovviamente consentire alle autorizzazioni richieste da Teleparty. Per provare già il tutto possiamo semplicemente cliccare su Netflix così cominciamo a vedere come funziona di per sé l'estensione. Facciamo continua. Per recuperare l'estensione basta andare qui in alto, questa è l'icona delle estensioni di Chrome, e andare in basso fin dove non troviamo Teleparty e andare a cliccare su questa piccola icona così ce lo salverà qui in alto e non dovremo ogni volta andare a cercarlo. Per usare Teleparty la prima cosa da fare è far partire un video qualsiasi di Netflix. Poi andiamo qui in alto, facciamo un clic semplice su TP e start the party. Come vedete vi verrà creato un link, questo sarà il link di accesso che dovrete mandare a tutti i vostri amici. Copiatelo e mandatelo. Come vedete durante l'esecuzione del video avremo anche una nostra chat in basso, potremo comunicare con i nostri amici collegati, potremo utilizzare anche la voce e il video, però se attiviamo la modalità Pro. Volendo l'upgrade lo potete fare, costa soltanto 4 dollari al mese e vi dà accesso anche a Crunchyroll, cosa che sennò non avreste. Rimane una delle estensioni migliori anche in termini di qualità video. La prossima estensione si chiama Watch Netflix Together, funziona praticamente come Teleparty che abbiamo visto un attimo fa, andiamo ad aggiungerla. Ovviamente questa funziona solo con Netflix, mentre Teleparty come visto prima funziona anche con diversi siti come YouTube, come Disney+, Prime Video, mentre in questo caso come detto solo Netflix. Per farlo funzionare basta andare su Netflix, quindi loggatevi e a questo punto andate a cliccare sull'icona NT. Fate poi attiva la sidebar e come prima, esattamente come Teleparty, come vedete avete già una struttura simile, quindi potete creare la sessione e a questo punto verrà creata la chat e il link di condivisione con i vostri amici. Non ricordo se ve l'ho detto prima, con tutte queste estensioni sarà fondamentale che sia voi che i vostri amici abbiate un account Netflix. La prossima estensione invece si chiama Watch Together e come Teleparty vi permette di guardare più cose insieme, o meglio più piattaforme, non è soltanto Netflix. Andiamo per esempio ad aggiungere questa estensione così vi faccio vedere come funziona. Vi faccio vedere il suo funzionamento ora qui su YouTube, però funziona per tante piattaforme diverse e nello specifico abbiamo YouTube, Vimeo, Twitch, TikTok, Instagram, Facebook, Dailymotion, insomma diverse piattaforme. E per far funzionare il tutto basta sempre andare in alto a destra, cliccare sull'icona di Watch Together e andare a creare una stanza. Una volta creata la stanza basta andare a inserire in alto il link del video che volete vedere insieme ai vostri amici, selezionando anche la piattaforma che andrete a utilizzare, in questo caso YouTube e ho messo un nostro video. Facendo ricerca, come vedete, lo propone subito tra i risultati. Potete aggiungerne tanti perché potete creare anche una playlist di video da vedere insieme, soprattutto se sono contenuti brevi. A questo punto, in alto a destra, avrete comunque il link da condividere esattamente come per tutte le altre estensioni. Passate questo link ai vostri amici e il gioco è fatto. Vi ricordo comunque anche in questo caso, per Netflix, Prime Video o comunque tutte le piattaforme a pagamento, tutti voi dovrete avere un vostro account attivo. Fatto questo possiamo tranquillamente far partire il video e il sistema sincronizzerà tra tutti voi il video che state vedendo in questo momento, in modo tale che non ci sia il rischio che uno sia vedendo un minuto avanti, uno un minuto indietro e così via. E anche qui potrete chattare tra di voi oppure parlarvi via chat vocale. Vi facciamo vedere anche questo ultimo tool per quanto riguarda la visione dei film insieme. Funziona esattamente come tutti gli altri e come vedete possiamo utilizzarlo per Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube e tanto altro ancora. In questo caso dobbiamo prima registrarci a questo sito e poi cliccare sul bottone qui in alto. Questo ci porterà a installare l'estensione dedicata di Siner. Una volta fatto questo il bottone in alto sarà cambiato e come vedete la scritta adesso è Host Watch Party. Quindi create praticamente il party per andare a guardare insieme ai vostri amici il video che avete scelto. Cliccate su questo bottone, andate a creare effettivamente l'account e una volta che avrete fatto l'accesso vi troverete davanti a questa schermata. Come vedete non è tanto diversa da quelle che avete visto finora. Per la versione free dovrete aspettare un attimino perché c'è diciamo una sorta di promozione. Aspettate, non vi preoccupate, tra un po' sparirà e potrete utilizzare questa estensione. Eccoci qua, scegliamo ad esempio in questo caso Netflix. Come vedete viene caricata la pagina di Netflix con il nostro account. Potremo poi far partire un qualsiasi video e invitare i nostri amici tramite il link che potete trovare qui sopra la chat. Copiate il link, mandate ai vostri amici, anche loro dovranno registrarsi a questa piattaforma ma da quel momento in poi potete guardare i video insieme. Bene ragazzi abbiamo visto applicazioni e tool o meglio estensioni decisamente utili sotto questo aspetto quindi per poter streamare quelli che sono i nostri film e le serie tv con i nostri amici barra fidanzati. Discord sembra quella più appetibile perché è gratuita e permette quasi di fare uno streaming illimitato di qualsiasi cosa però la qualità avete visto non è proprio eccellente quindi se guardate una serie tv o un film in 4k la qualità effettivamente ne andrà a risentire e non sarà proprio proprio piacevole diciamo così. E il resto ve lo faccio esporre a Ghela. Le estensioni come avete visto sono sicuramente molto molto pratiche hanno le loro limitazioni come quella già detto prima di avere tutti un account per ogni piattaforma e questo purtroppo è inevitabile però la soluzione è più rapida, basta un link e praticamente tutti possono accedervi potete anche chattare quindi dirvi magari qualche piccola informazione riguardo al film qualche curiosità a fare una battuta per alcuni di questi anche con videocamera e microfono quindi insomma sono dei servizi a tutto tondo che come avete visto vanno a essere migliori anche di Discord ma con delle pecche. Esatto quindi non fatevi ingannare dal nome come per esempio Watch Netflix Together che dà proprio l'impressione di poter streamare esclusivamente Netflix magari senza avere l'account ognuno ciascuno darebbe quasi questa illusione ma anche in questo caso non è così. Per ogni estensione serve che voi abbiate il vostro account che sia Netflix, Disney Plus o Prime Video. Ma per tutto il resto abbiamo già parlato fin troppo in questo video avete visto quindi come realizzare una serata cinema con i vostri amici ma probabilmente le estensioni non finiscono qua quindi se avete qualche altra estensione, applicazione, tool che può essere utile proprio a questo scopo scrivetecelo sotto nei commenti e noi probabilmente o sicuramente lo andremo a provare magari vi facciamo uno short o un TikTok. Come sempre ragazzi se vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sicuramente con il prossimo video A presto Ciao Ciao